Buongiorno popolo italiano, apprendiamo in queste ore del divampare di un piccolissimo focolaio in una piccolissima città lombarda, Codogno. L'Italia non deve temere nulla, ci aspettavamo un espatrio del coronavirus, ma la vita procede regolare, non ci sono grossi problemi per la popolazione, potete continuare con le vostre abitudini, potete continuare a fare jogging nei parchi, potete continuare ad andare a fare la spesa e a recarvi sul posto di lavoro senza alcun problema, potete continuare ad andare in bicicletta e soprattutto le donne possono continuare ad andare a farsi la ceretta. Buongiorno qui dalla Francia, abbiamo saputo che c'è un piccolo coronavirus, dalle vostre italiane, dai vicini italiani, sì sì, quelli che dicono che il loro vino è migliore del nostro. Ma qui nessun problema per l'instant, n'y'a pas de quoi e je dois dire che questa sera nous avons un gran fête, ci sarà una grande festa perché dobbiamo celebrare il Puffo, sì, la festa dei Puffi, grande Puffo, piccolo Puffo, nonno Puffo, mamma Puffo, è buffo, ma è tutto un Puffo. Allora si fanno della patria. Buongiorno, ladies and gentlemen. Buongiorno, abbiamo saputo che il coronavirus inizia a venire in Europa e precisamente in Italia. qui non abbiamo nessun caso, noi lasciamo tutto open, pubs, restaurant, la vita normale come sempre, se il coronavirus aumenta, in questo caso noi faremo, come se dice in italiano? Oh, sì, sì, il greggio, facciamo il greggio, come tanti pecoroni, sì, ci curiamo uno con l'altro. No problem about the virus, don't worry, don't worry. Cool, man. no, 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 no. Hola amigos italiani, que tal? Aquí no tenemos nada, no está nada, no malados, no enfermos, nada de nada aquí en España. No, 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 no. Y sobre todo, esta noche hay el partido, mira, yo soy Atleti Club de Bilbao contra Real Madrid. Vamos! Fiesta al carajo! Buongiorno, ho saputo ora che quei terroni europei di italiani hanno coronavirus. Problemi loro, noi qui in Germania non avere. Gli italiani hanno coronavirus e hanno anche debiti e dunque devono paccare, paccare, paccare e sempre paccare. Se fanno danni, pacano. Qua in Germania tutto tranquillo, non c'è problema. E se l'Italia va a Caput, problema loro, perché qui coronavirus non è!